come disattivare instagram lo vediamo in questo tutorial di oggi prima cosa da fare quella di andare su instagram ed effettuare il login per entrare nel nostro profilo al fine di disattivare il nostro account quindi instagram.com slash accounts slash login vado a inserire i miei dati di accesso quindi nickname seguito in basso dalla relativa password di accesso come sto facendo or ora cari esimi utenti di youtube a questo punto clicco su accedi come ho fatto or ora attendo qualche istante di tempo ecco mi si è caricata tutta la pagina adesso adesso non vado a fare altro che andare nella parte destra dell'account vedete c'è la mia immagine la mia foto cliccherò sopra alla foto del mio profilo un clic poi sulla dicitura profilo attendo qualche minuto di tempo a questo punto troverò la il mio bel profilo aperto bene con tutte le foto i post eccetera eccetera un bel clic sulla dicitura modifica il profilo fatto si aprirà questa pagina qua che la pagina principale mio profilo giusto dovrò andare a scorrere in basso scorro in basso vado a scorrere piano piano in basso ovviamente non del tutto perché andando ancora più sotto troverete i miei dati personali e non voglio farveli vedere quindi vado a abbassare e a far vedere quello che apparirà in basso troverò la dicitura in basso a destra chiamata disabilita temporaneamente il mio account non vado a far altro che cliccare sopra a disabilita temporaneamente il mio account in questo modo andrò a disattivare il mio account di instagram ci clicco sopra poi mi uscirà una informazione che è questa qua perché stai disattivando il tuo profilo dovrai dare in relativa indicazione il motivo se non è presente in queste motivazioni basterà cliccare su altro inserire la password di accesso e poi un click su disabilita temporaneamente l'account ecco che avete di fatto de facto disattivato il vostro profilo di instagram tutto qua non è difficile vi ringrazio iscrivetevi al canale conoscitori italiano e narratore italiano commentate ciao da le androre al prossimo video grazie